Salve a tutti ragazzi oggi in questo nuovissimo video ragazzi trufferò per la prima volta una persona però ragazzi vengo a precisare che poi la roba gliela darò verso la fine tipo perché voglio vedere un po' la loro reazione se vengono truffati quindi ho scogitato un metodo per farlo quindi però ragazzi non vi preoccupate poi dopo la roba gliela ridò tutta nel senso tutto quello che prendo e diciamo ragazzi che questa persona ha reagito abbastanza bene quindi ragazzi mi raccomando mettete un bel like commentatemi fate sapere cosa ne pensate se vi hanno mai truffato se non vi hanno mai truffato nessuno se avete truffato poi un truffatore e roba varia fatemelo sapere nei commenti e buona visione a tutti ok quindi Kino tu scambi si? si si scambi infatti il tuo amico tanto può venire pure il tuo amico rimane là qua perché c'è un po' così da subenti un po' la base è qui che sto costruendo tipo una cittadella bella cazzo valore la casetta lì delle del cecchino o ancora non l'hai tolta? no mi piace la rimango quella che cosa vuoi dimostra qua scendiamo giù poi c'è le gambe resegrine no un po' di un cazzo uh che figo bella vabbè ti ricordo facciamo uno scambio ok io facciamo uno scambio più normale cosa mi potresti dare di buono armi e materiali servirebbe ce l'hai dello spago montano se io ce l'ho 30 spago montano questo lo vuoi? o vuoi un po' di malachire per lo spago montano? no malachire ne va abbastanza mi interesserebbe diciamo le luci dee scaglia buia scaglia buia quanto ne vuoi scaglia buia? per quanto spago montano? 30 30 30 20 eh no 20 è troppo che cazzo eh no 20 è troppo che cazzo ah 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 guarda che ci scaglia buia se non posso eh vabbè andai eh guarda se non ho fatto guarda qui dalla finestra e non la puoi vedere ok non la riesci a vedere ok la vedo ok la metto lì per vedere se ce l'hai si è messo? cosa? ah ma ti devo gruppare ah si si troppo ma dove se lo troppo qua dietro? si si 30 mhm si ok che cazzo di mettere c'hai che lo trovi? no ti giuro pupello ripresa ecco ecco lo modifico qua vieni qua ok 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 mi interessa però le armi non mi sembra che non mi sembra che faccio stare armi allora io guarda io lo so aspetta vi faccio vedere prima le armi che ci sono vai è riuscito aspetta riusci a vederne perlomeno uno allora li vedono scavafossi oh cazzo non riesco a leggere in uno ok che sono tutti scavafossi? poi c'ho questo rado a libertà questo questo guardate i nomi ne ho pure lì terra da stanza aspetta ok per per far vedere cosa c'è per vedere cosa c'è per vedere cosa c'è per vedere cosa c'è scavafossi al 130 no zero e notturno al 106 ma ciò farci morte al 94 mi piace quale devo soltanto lo spaceresse distruttore il costruttore dei costruttori a dei costruttori si chiamano di costruttore fondatore allora si interessa un donzore di costruttore poi c'è l'ho libero di 32 morte trascavo e l'ottanta l'ottorna l'ottanta l'uso perché l'arma l'ottanta l'uno si tristere l'ottanta l'unito grotto l'ottanta due eccoci grotto l'ho tanto vero scammato scammarmi avesse truffato una persona io davvero 9 per cento delle persone guardano le persone non c'è nessuno che scambia cioè scammati con le persone ha detto me ora mi vendico su di me per tutte le persone tante persone mi spiace ma ormai l'ermi sono mia che è truffa commerciale questo bambino che parla ma l'eglippata perlomeno non me l'ho fatto hd così lo truffa eh fatto hd quel down oppure a king of w che vediamo un po o tiger o us ne ho fatto hd fatto vabbè cosa con lo scammato cazzo non ci sta una persona che ha truffato magari mi ha rubato supertrinciatore scaro l'82 idra l'82 soppruggendarmalo l'82 un botto di roba scaro non non consumare no oppure morte da scambio questa mi piace è bella come arma fa anche abbastanza male pure una banca ma tu li parli così dopo che ti ha truffato ho capito io ho tutto il profondo sulla balestra c'è un altro c'è un altro c'è un altro c'è un altro il mio zio la parola ipic games quindi ti potrebbe bannare mi piace ho paura aspetta che ti rido tutto e ne vedi tutto che fai bene detto da un bambino come te c'ho più anni di te sono 24 e dai su ridamele dai su dai scambiamo veramente dai su dai su dai rendi e dai che truffato del merda spero che quello della effetti banni ma aspettavo di piccina pensavo che insultavano non sono una persona che insulta sono anche se mi truffano e riesco a controllare per vedere ragazzi verito era solamente uno scherzo per vedere come reagivate con le reazioni capito perfetto sei comunque un bastardo perché mi ha rubato le armi però queste però uguale rispetto alle grado nel fortino se lo stesso è una cosa che non c'è tutta delle armi non andare a parto sarebbero bravo rispetto alle 82 dovrebbe appreso tutto c'è una cosa 55 credo che sia la tua palestra è la mia la mia c'è la mia me l'ho trovata dove cazzo sei entrato eh magia magia ragha era che lo ero copertuto davvero Ah, ok, c'è una porta qua giù in fondo Ecco la magia Io lo metto per entrare un colore Lo metto per entrare un colore, lo metto per entrare Oh, guarda che bel buco che c'è qua Ma qua truffi altre persone Ok, l'ho truffato Ok, comunque ragazzi, concludo qua il video Iscrivetevi, lasciate un like Salutate Anche canale YouTube Ah, infamelo E' la prova sul canale YouTube Ecco me, non ho spettato Ma tutto prima Quando vogliamo vedere la vostra reazione Ecco perché Ecco mi chiamo Ecco mi chiami Un agrario Ah Un fammi 2.0 Allora Che comunque si è iscritto a questo canale Lo segnale perché ha truffato Anche se ne vedo la roba Però voglio aver bannare lo stesso Vabbè ragazzi E' un po' perché sono troppo bravo Allora Vabbè Allora Allora Allora